Fin dai primi video qui sul canale ho sempre cercato di darvi degli ottimi suggerimenti che passano attraverso dei trucchetti, dei consigli con l'unico scopo di farvi usare al meglio il vostro iPhone. Ma per il video di oggi ho deciso di ribaltare la situazione mostrandovi i 5 errori da non fare assolutamente, errori che se evitati miglioreranno la vostra user experience, la sicurezza e soprattutto la durata del tempo del nostro amatissimo iPhone. Come sempre per l'occasione non ho creato questa volta un solo sfondo ma ben due, il primo ispirato a Big Sur e il secondo ispirato a Mac OS 12 Monterrey. Se vi piacciono troverete i link per scaricarli proprio qui sotto in descrizione. Quando passerete da lì vi chiedo solo e unicamente a supporto del mio lavoro di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale. È tutto pronto? Sigla! Poi andiamo a scoprire i 5 errori da non fare assolutamente con il nostro iPhone. Ho deciso di mettere al posto numero 1 degli errori da non fare con il nostro iPhone un'attività che ho visto compiere in maniera quasi compulsiva e ossessiva da tantissimi amici e familiari e sto parlando della chiusura delle app dal multitasking di iPhone. Come sapete per richiamare il multitasking basta fare uno swipe verso l'alto e ci verranno mostrate tutte le app che abbiamo aperte in questo momento. Potremmo scorrere verso destra o sinistra e deciderne di chiuderne una in qualsiasi momento facendo uno swipe verso l'alto e verrà chiusa. Ma questo è un grandissimo errore per ben due motivi. Il primo è che iOS è specificatamente progettato per gestire al meglio tutte queste app che lasciamo aperte in background. Cosa fa iOS? Le tiene lì, non le fa occupare né risorse della CPU o GPU ma neanche della RAM ma ci permette semplicemente di ritornare a quello che stavamo facendo, semplicemente facendoci un tap. Pensate che questa funzionalità venne introdotta a partire fin dai tempi di iOS 4 nel 2010 e da allora si è continuamente migliorata ed ottimizzata per i nostri iPhone. Il secondo motivo che vi elencavo prima e che serve tantissimo da tener conto è il fatto che se io richiamo un'app dal multitasking come per esempio impostazioni e passo poi a Safari vedete che la velocità è incredibile, cioè il passaggio è molto molto rapido e mi permette di continuare esattamente quello che stavo facendo. Se invece io dovessi per dirvi chiudere Safari, lo vado a chiudere proprio dal multitasking e lo vado a richiamare, vedete che questa funzione diventa più lenta perché deve ricaricare la pagina, perché deve tornare esattamente al punto in cui stavamo facendo le cose prima e quindi da un lato c'è una lentezza ma dall'altro c'è una richiesta continua e maggiore di risorse da parte della CPU, della GPU e della memoria, quindi andando a impattare anche sull'autonomia generale del nostro iPhone e quindi chiudendo tantissimo volte le app durante la giornata e andandole poi a richiamare perché le app che utilizziamo poi alla fine se ci fate conto sono un pochino sempre quelle, andremo anche ad aumentare il consumo dell'energia e quindi accorceremo la durata della batteria. Tenetene conto perché è davvero una delle cose che può fare la differenza. Mi collego così all'errore numero due che ho visto anche in questo caso essere compiuto da tantissimi amici conoscenti e familiari ed è quello di vedere che loro utilizzano tutto il giorno costantemente la modalità di risparmio energia. Infatti sapete che richiamando le impostazioni di iPhone e scendendo in batteria possiamo andare ad attivare il risparmio energetico. Questo risparmio si attiva automaticamente o meglio iOS ci propone di attivarlo automaticamente quando raggiungiamo il 20% di livello della batteria. Tantissimi di noi lo attivano comunque costantemente tutto il giorno e vedete che quando è attivo l'iconcina della batteria in alto a destra è nel colore è giallo ma anche questo è un errore. Vi spiego perché in questo momento iPhone con il risparmio di energia attivato va a tagliare tantissime risorse che normalmente utilizza ad esempio l'aggiornamento delle app in background. Non riceverò automaticamente le email o messaggi. Se ho dei servizi che costantemente lavorano alle spalle questi saranno disattivati come anche le animazioni e la velocità generale del sistema sarà rallentata tantissimo e questo permetterà sì di contenere i consumi della batteria ma andrà a inficiare tantissimo sulla user experience generale che abbiamo del nostro iPhone. iPhone è progettato per essere veloce, scattante, avere sempre le app pronte quindi vi sconsiglio di utilizzare questa funzionalità tutto il giorno. Se per qualche motivo vi ritrovate a un punto della giornata e sapete che non accederete a una ricarica entro brevissimo allora sì attivatelo ma non fate sì che sia una cosa continua e costante da utilizzare perché in qualche modo vi farà utilizzare peggio il vostro iPhone. Per il terzo errore da non fare assolutamente con il nostro iPhone ho deciso di mostrarvi una funzione che forse in tanti non utilizziamo. Al meglio sto parlando della disattivazione del Bluetooth o del Wi-Fi. Voi sapete benissimo che richiamando il centro di controllo vedremo tutte le iconcine della connettività qua sopra a sinistra vedete la prima di rete e il Wi-Fi e il Bluetooth e se noi andiamo per qualche motivo a toccare quella del Bluetooth per disattivarlo vedete che non si spegne completamente ma resta l'iconcina leggermente bianca il che vuol dire che non lo abbiamo disattivato ma bensì in questo momento abbiamo disconnesso tutti i dispositivi pur lasciando il Bluetooth attivo e questo è stato fatto da Apple perché chi ha un Apple Watch come me questo consente di mantenere la connessione fra i due dispositivi e aggiornare costantemente i dati che provengono proprio da Apple Watch e quindi in questo momento non siamo andati a dargli quel risparmio di energia che volevamo inizialmente fare. Se lo vogliamo disattivare completamente possiamo farlo in due modi il primo è quello di riattivarlo per un attimo tenere premuto fino a che non compare un altro screen fare ancora una pressione prolungata andare in impostazioni Bluetooth e spegnerlo completamente vedete che adesso è completamente l'iconcina spenta e in questo momento andremo a risparmiare energia che il Bluetooth andrebbe comunque a consumare se fosse attivo e la stessa cosa è valida anche per le reti Wi-Fi. Per l'errore numero 4 ho osservato ancora una volta tantissimo amici conoscenti e familiari a questa volta devo dire che li ho anche sgridati tantissime volte perché è una cosa che non va assolutamente fatta e sto parlando ovviamente di non configurare adeguatamente l'app dov'è quella che un tempo veniva conosciuta come trova il mio iPhone se infatti accediamo alle impostazioni facciamo un tap sul nostro nome la troverete immediatamente qui come terza voce ci facciamo un tap e guardate e mi raccomando fatelo che queste voci siano tutte attive innanzitutto la prima trova il mio iPhone deve essere su attivo ma non basta perché se ci facciamo un tap ci verranno chieste altre tre cose da attivare che vanno assolutamente fatta il primo è chiaramente il servizio la seconda è la rete dov'è che è una rete avanzata di Apple che permette di ritrovare un dispositivo perso anche se non c'è connettività Wi-Fi o 3G 4G e la terza è in via ultima posizione cioè se qualcuno spegne questo iPhone poco prima di spegnersi invierà la posizione esatta e la potremo vedere proprio dall'app dov'è su un iPad su un Mac o da un altro iPhone quindi guardate che queste tre interruttori siano sempre attivi inoltre nella mia posizione questo cosa cosa serve serve quando andiamo a condividere la nostra posizione ad esempio i messaggi e vogliamo dire ai nostri amici che siamo in quella location userà la rete dov'è proprio la posizione di questo iPhone vi consiglio di farlo perché l'iPhone resta comunque il nostro dispositivo primario condividi la posizione appunto quel pulsante che ci permette di condividerla attraverso app di terzi e quindi consentendo anche per una quantità di tempo limitata di dire dove siamo mi raccomando attivatela attivate tutti questi interruttori perché anche se non ve lo auguro in caso di smarrimento o di furto di iPhone questo potrà salvarvi potrà farvi recuperare il dispositivo ma soprattutto metterà completamente al sicuro i vostri dati. Il quinto e ultimo errore di cui vi parlo oggi riguarda la ricarica del nostro iPhone e tantissime volte nei commenti mi fate domande su come si ricarica quanto si ricarica fino a quando è bene ricaricarlo come percentuale insomma tanti modi che servono poi per aumentare la vita utile del nostro iPhone. Apple negli ultimi anni ha fatto tantissimo per aiutarci a capire come sta la nostra batteria come ricaricarlo ma c'è tra tutte queste un'opzione che vi consiglio di attivare immediatamente se non l'avete ancora fatto tantissimi non lo fanno e l'ho visto sempre sui dispositivi degli amici ma è da fare assolutamente richiamiamo le impostazioni e scendiamo ancora una volta fino a batteria a questo punto andremo nella sezione stato batteria e qui ci dirà la capacità massima del nostro iPhone cioè che è la qualità generale della batteria qui vediamo un 90 per cento ma questo è un iPhone Dolich Pro Max quindi sta per compiere due anni credo che sia normale un valore di questo genere ma sotto c'è questo pulsantino che si chiama caricamento ottimizzato in tanti lo tengono disattivate voi non fate l'errore e attivatelo sostanzialmente questa modalità farà in maniera automatica la ricarica fino all'ottanta per cento in maniera veloce se usiamo dispositivi che hanno una ricarica veloce che siano via cavo o che siano via ricaricatori wireless o MagSafe a quel punto l'iPhone in base alle nostre abitudini e questo viene identificato attraverso il machine learning quindi capirà quando a un certo orario sa che dobbiamo uscire o meno ad esempio di notte sa che fino a quell'orario dormiremo quindi non agirà in maniera violenta nella ricarica la porterà dall'ottanta al cento per cento in modo graduale e più lento proprio per non andare a rovinare la qualità generale della nostra batteria ed è una cosa che va fatta perché noi ci teniamo la vita del nostro iPhone ci teniamo che la batteria duri e quindi se non avete attivato il caricamento ottimizzato andateci a guardare subito ed attivatelo perché migliorerete la vita del vostro iPhone in sostanza questi erano i cinque errori che secondo me non dovete effettuare assolutamente con il vostro iPhone ma mi interessa come sempre tantissimo la vostra opinione sapere se erano già cose che state mettendo in pratico se sono cose completamente nuove insomma in tantissimi vi aspetto qui sotto nei commenti quando passate dalla descrizione ricordatevi anche che trovate i link per scaricare i due sfondi che ho creato solo e unicamente per voi e mi raccomando vi chiedo per favore di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale prima di arrivare ai saluti ci tengo a dirvi che ci aspettano tre quattro settimane di passione per i prodotti Apple perché andrà in streaming la WDC 2022 e al 99 per cento farà una live quindi tenetevi pronti anche perché sarà la prima live verranno mostrati tutti i nuovi sistemi operativi iOS 16 iPad OS 16 Mac OS 13 ma anche molto di più pare anche l'arrivo di tantissimi prodotti coprirò cinque di questi a brevissima in un video che sto preparando quindi state sintonizzati noi ci vediamo presto qui sul canale un grande saluto da Francesco ciao 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 ciao